Ben ritrovati dalla redazione di news24.city Villa Castelli non vuole lavorare picchie familiari per soldi arrestato, 21enne, il giovane da due anni, maltrattava madre, padre e sorella Ostuni blizza i carabinieri in una discoteca di Rosa Marina scoperti 20 lavoratori, nero, combinata al titolare, una sanzione di oltre 37.000 euro Poggiorsini paga di 70 centesimi all'ora per i pastori arrestati due imprenditori, due emigrati, lavoravano senza riposi in condizioni di degrado Cerignola pretende di saltare la fila al pronto soccorso aggredisce medico e infermiere in azione, un pregiudicato malore per il medico ex sindaco di Orta Nova Andrea Reni e Cornea per salvare altre vite non ocaso di donazioni di organi al Bonomo terminate la scorsa notte le operazioni di espianto su di un uomo 43enne di Trani Puglia arriva alla bocciatura per turismo e tempo libero ultima la BAT indagine del sole 24 ore restano a galla solo Bari e Lecce Puglia arriva alla bocciatura per turismo e tempo libero Puglia arriva alla bocciatura per turismo e tempo libero